Cari amici ben ritrovati, siamo a Roccadaspide dove nei giorni scorsi hanno preso il via i lavori alla piazza, un intervento dall'importo davvero considerevole atteso da tempo. Noi parliamo con il sindaco Girolamo Ricchio e allora finalmente dopo tanto tempo sono partiti questi lavori che cambieranno il volto della città. Sì, finalmente sono partiti questi lavori, riguardano il centro storico e riguardano tutti i sottoservizi, rete idrica, fognante, metano, quindi il rifacimento dell'intera pavimentazione è un qualche cosa di bello, è un bel progetto, io penso che alla fine dei lavori Roccadaspide cambierà volto. E poi naturalmente non si tratta dell'unico intervento in corso perché ci sono degli interventi in realtà non da oggi che continuano alle varie scuole del territorio, sia al capoluogo che alle cinque frazioni, solo di recente sono stati appaltati i lavori alla scuola di Serre e di Carretiello, insomma massima attenzione per l'edilizia scolastica. Sì, per tutti i plessi del territorio che sono cinque, quindi una spesa complessiva di 3 milioni e 200, quindi andiamo bene per l'edilizia scolastica. Attenzione massima dunque per le scuole, per gli studenti, ma attenzione massima anche per gli sportivi, tanto che nei giorni scorsi è stato inaugurato il palazzetto dello sport. Sì, è un'attenzione massima sia riservata ai giovani del territorio che a tutti i giovani dei territori degli Alburni, Calurre e della Lento. È un'opera importante, bellissima per i giovani dove sarà possibile un'aggregazione maggiore, uno sviluppo maggiore degli atleti. Sì, fino a pochi giorni fa questi nostri giovani dovevano andare in zone lontane, oggi possono giocare la palla a canistra, la palla a volo, possono fare tutto nel nostro territorio. È un qualche cosa veramente che mi onora e mi fa piacere che finalmente l'abbiamo realizzato. Sindaco, voglio ricordare che il prossimo 17 ottobre ci sarà la cerimonia per il rientro in patria della salma di un giovane morto in guerra. Sì, si tratta di un giovane carabiniere che è deceduto a Rodi nel 1942 e quindi unitamente dalla famiglia abbiamo fatto sì che il giorno 17 ci sarà il rientro nel nostro territorio. Ci sarà un'importante cerimonia con la presenza di tutte le autorità civili, militari e religiose.